Gereviso 161esima edizione, per lo spettacolo segnaliamo un'intervista realizzata con Gianfranco D'Angelo e la recensione del suo spettacolo intitolato Un viaggio lungo 40 anni. Quella della PS nella sala Umberto di Roma è titolata Non c'è tempo per amore con Blas Roca Re e Amanda San Andrea, nonché un'intervista realizzata con Beppe Barra, protagonista dello show Un Attimo in Tornei del Bel Paese. Per Mondomedia un servizio sulla nuova campagna pubblicitaria del Caffè Mauro che ha realizzato uno spot di 15 secondi in onda dal 16 aprile su Sky Sport in tre dimensioni all'insegna del Climb Caffè Mauro s'aspetti ciattimisti. Per la televisione un'intervista realizzata con la balleria Antonia Titova che dopo le patiche del ballo si è dedicata alla fiction e per l'arte un servizio sulla retrospettiva dello scultore Albino Manca al Vittoriano sui mutanti a Villa Medici nella capitale, sull'uso della tecnologia nell'antica Roma e sulle miniature indiane al Museo d'Arte Orientale di Torino. Grazie a tutti!